Nella lezione precedente abbiamo introdotto gli operatori aritmetici base del linguaggio. In questa andremo a introdurre gli operatori stringa. Gli operatori stringa sono fondamentalmente due. L'operatore punto, ovvero l'operatore di congiunzione o concatenazione, e l'operatore x, x scritto come carattere minuscolo. Quest'ultimo è il carattere di ripetizione della stringa e inoltre è un'esclusiva del Perl. Ed eccovi un esempio di utilizzo di questi due tipi di operatore. Nell'esempio 1 ho concatenato la stringa xiao al carattere space, alla stringa a, al carattere space, alla stringa tutti e infine con il carattere newline. Nell'esempio 2 ho utilizzato l'operatore di ripetizione della stringa e quindi si stamperà ciao a tutti per tre volte. E nell'esempio 3 stamperà ciao a tutti per 3 più 1 volte, per dimostrarvi com'è possibile utilizzare operazioni aritmetiche base in concomitanza dell'operatore di ripetizione. Infatti, se andiamo ad eseguire l'esempio, come vedete, nell'esempio 1 ha stampato ciao a tutti e i parametri sono stati concatenati correttamente. Nell'esempio 2 è stata stampata per 3 volte la stringa ciao a tutti e nell'esempio 3 è stata stampata per 3 più 1 volte la stringa ciao a tutti, quindi 4 volte. Mi sembra giusto spendere ulteriore tempo per spiegare meglio il concetto di interpolazione che ho introdotto superficialmente nel video precedente. Si parla di interpolazione quando una variabile all'interno di una stringa viene sostituita con il suo rispettivo valore, quindi interpretata. Per innescare il processo si utilizzano i doppi apici, quando invece non vogliamo che si inneschi tale processo si utilizzano i singoli apici. Commentato nell'esempio troviamo la sintassi da utilizzare per innescare o non innescare il processo di interpolazione. Per avvalerci di questo meccanismo si deve racchiudere la stringa tra doppi apici, altrimenti si devono utilizzare i singoli apici. Nello script vero e proprio ho creato una variabile nome a cui ho assegnato il valore Gianni. Nell'esempio 1 stampo ciao e poi la variabile nome utilizzando il principio di interpolazione. Nell'esempio 2 faccio la solita cosa ma non innescando il principio di interpolazione. Guardiamo cosa succede. Come vedete l'esempio 1 ha sostituito la variabile nome con il suo contenuto, ovvero Gianni. Nell'esempio 2 è invece un macello. Ha mantenuto, ha stampato direttamente dollaro nome e addirittura non ha interpretato neanche il carattere newline. Facendo ancora riferimento al video precedente vi ho preparato una tabella che vi mostra le proprietà di precedenza e di associazione degli operatori. Più in alto si trova l'operatore all'interno della tabella maggiore la precedenza che ha sugli altri operatori. La proprietà associativa di un operatore fa riferimento alla sua direzione di esecuzione all'interno di un'espressione. Ma vediamo di chiarirci un po' le idee. Nell'esempio ho utilizzato l'espressione 4 potenza di 3 potenza di 2. Nella tabella l'operatore potenza come associatività a destra quindi svolgeremo l'espressione partendo per l'appunto da destra ed elevando per prima 3 alla seconda quindi ottenendo 9 ed infine elevando il 4 alla 9. Nel secondo esempio ho utilizzato l'espressione 72 diviso 12 diviso 3. Guardiamo la tabella vediamo che l'operatore divisione ha come associatività a sinistra quindi svolgeremo per prima cosa 72 diviso 12 e poi divideremo il risultato per 3. Il terzo esempio ho utilizzato l'espressione 36 diviso 6 per 3. Anche qua occhiata la tabella degli operatori dell'associatività. Vediamo che l'operatore moltiplicazione e divisione hanno entrambi l'associatività a sinistra quindi inizieremo a svolgere l'espressione da sinistra svolgendo 36 diviso 6 e poi moltiplicando il risultato per 3. Infatti se andiamo ad eseguire il programma come vedete non fa una grins. Se vogliamo modificare l'associatività e la precedenza degli operatori possiamo usare le parentesi. Come modificando il secondo esempio e aggiungendo le parentesi in questo modo abbiamo spostato l'associatività a destra. Quindi eseguendo questa espressione dovremo fare 12 diviso 3 e poi 72 diviso il risultato di 12 diviso 3. Infatti salviamo, rieseguiamo il programma. Come vedete il risultato è cambiato poiché abbiamo spostato l'associatività dell'espressione. Ora non vi preoccupate assolutamente non dovete impararvi a memoria tutto questo papier di cose qua anche perché è impossibile. Semplicemente basta saperlo e qualora non tornasse qualcosa nel vostro programma e sospettate che la causa possa essere una precedenza oppure un qualcosa legato all'associatività degli operatori basta andare a cercare la tabella e dargli uno sguardo. Infine visto che siamo in tema guardiamoci pure gli operatori di comparazione. Il PERL ha la peculiarità di avere operatori distinti per il confronto numerico e per il confronto stringa. Gli operatori stringa eseguono il confronto carattere per carattere per stabilire un'uguaglianza o per stabilire una differenza. Per stabilire se una stringa è maggiore o minore di un'altra il PERL fa riferimento all'ordinamento dei caratteri secondo tabella ASCII o Unicode e non in ordine alfabetico. Riguardo agli operatori di comparazione numerici sono i classici operatori matematici mentre gli operatori di comparazione stringa sono equ che sta per equal. Non uguale o diverso sta per NE che sarebbe per not equal. Minore o D sta per LT che sarebbe lesser than. Maggiore D sarebbe per GT che sarebbe per greater than. Minore o uguale D sta per LE è lesser than equal e maggiore o uguale D sta per GE che è per greater than equal. Guardiamoci questo esempio. Guardiamo gli operatori di confronto numerici. 1 inferiore di 2 restituisce true. 2 uguale a 2 anche qua restituisce true e 1 uguale a 2 restituisce invece false giustamente. Gli operatori di confronto stringa invece funzionano in questo modo. Si prende due stringhe e si fa la comparazione carattere per carattere. Quindi è vero che FRED è minore di free? Guardiamo. Si fa F uguale a F, R è uguale a R, E è uguale a E, DE. Il confronto avviene qua. Guardiamoci i caratteri ASCII. Guardiamo il loro ordinamento e potremo notare che D viene prima di E quindi restituisce true poiché D è minore per l'appunto di E. FRED in questo caso risulterà minore di free. Nel secondo caso si fa il confronto anche qua carattere per carattere e si vede che FRED effettivamente è uguale a FRED. Nell'ultimo esempio si nota che FRED è uguale a FRED restituisce false. Questo perché? Perché gli operatori di confronto stringa sono case sensitive, ovvero fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. In questo caso F minuscolo non è uguale ad F maiuscolo e quindi restituisce false. Quindi io direi che per questa lezione è tutto e ci si vede alla prossima.